L'IMU a Porcari, chi più chi meno, la pagheranno comunque tutti. La maggioranza ha infatti detto no alla mozione proposta lunedì sera in Consiglio Comunale dall'opposizione, che chiedeva al Comune di Porcari di restituire alle famiglie sotto una determinata soglia di reddito ed in condizioni di oggettivo disagio l'IMU sulla prima casa. Una richiesta che i tre consiglieri di Da Sempre per Porcari, Picchi, Giannoni e Marchetti hanno avanzato in quanto, oltre a non ritenere giusto di chiedere alle famiglie più disagiate, ad esempio anziani, lavoratori disoccupati o cassa integrazione, di pagare la tassa su un bene primario, hanno anche visto, snocciolando il bilancio di previsione 2012, che Porcari potrebbe avere risorse per i meno fortunati, pari a circa 150.000 euro. Dimezzando infatti i soldi per feste, murale, suo addetto stampa e visto anche l'avanzo di bilancio di oltre 70.000 euro, afferma il capogruppo della minorenza Giannoni, la giunta Baccini avrebbe potuto rimpinguare il fondo di solidarietà, aiutando così tutte quelle famiglie che non arrivano a fine mese o ci arrivano con molte difficoltà. E invece niente, la maggiorenza ha detto no alla mozione, sostenendo che Porcari pensa già in meno fortunati, con facilitazioni e agevolazioni fiscali. A deludere da sempre per Porcari il fatto che Baccini e la sua squadra non abbiano nemmeno proposto degli emendamenti di modifica. Non ci aspettavamo il sippieno, ma nemmeno che la nostra mozione venisse bocciata a 360 gradi, ha affermato il capogruppo Giannoni. Per il centenario del comune, visti i 230.000 euro stanziati e intoccabili, ci attendiamo una grande festa.